Pasquale Montanaro, 40 anni, originario di Foggia ma residente a Rimini, è stato fermato in flagranza mentre stava per rapinare la farmacia Rinaldi in via Negusanti a Fano. Durante l'interrogatorio ha confessato di essere l'autore di una precedente rapina commessa il 26 giugno scorso, sempre nella stessa farmacia dove prima di rubare 800 euro aveva chiuso le dipendenti dentro uno sgabuzzino. Ha messo a segno inoltre un colpo in un supermercato in via Titosperi, sempre nella città della Fortuna e più consistente in questo caso il bottino di 2.500 euro. Montanaro era stato rimesso in libertà solo lo scorso mese di marzo dopo aver scontato sei anni di carcere per altre rapine compiute in farmacie nella città di Pesaro ed intorni. Sì, c'è tutta l'attività ora investigativa che viene svolta e stiamo verificando tutte le situazioni che si sono svolte nel nostro territorio e anche eventualmente fuori dalla nostra provincia. Nei giorni scorsi un ispettore del commissariato di polizia di Fanno, libero dal servizio, ha notato il malvivente mentre si aggirava con atteggiamenti sospetti, segnalato il fatto alla volante, immediatamente giunto sul posto a controllare l'uomo. Durante la perquisizione gli agenti gli hanno trovato addosso un cacciavite, un berretto con visiere ed uno scaldacollo, l'attrezzatura necessaria per mettere a segno ancora un'altra rapina. Indossava anche un abbigliamento pesante, quindi fuori luogo visto il periodo. Sì, lo faceva per nascondere armi improprio, soprattutto coltelli o cacciaviti come nell'ultima occasione. Questo non è passato inosservato appunto a uno dei nostri agenti che l'ha visto, ha subito avvisato la pattuglia della volante. Quando invece il primo giugno scorso aveva preso di mira il supermercato Eurosole Crai durante la fuga a bordo di un'auto rubata a Rimini, aveva causato uno scontro frontale all'imboccatura dell'autostrada, procurando lesioni gravi alla conducente dell'altro veicolo. La donna, trasportata al pronto soccorso, ne è uscita con 30 giorni di prognosi. Poi ha fuggito, nonostante fosse anche lui ferito pesantemente, a seguito dell'incidente ha fuggito a piedi, dileguandosi per le zone limitrofe. Per il giorno di ferragosto aumenterete i controlli? Ci sono controlli per la serata, per la nottata, ci sarà il nostro pattugliamento sulla città di Fano naturalmente.